Oggi testiamo due microfoni, l'SC400 e l'SC600 della T-Bone. Come suonano? Suonano uguali? Sono diversi? Scopriamolo insieme. Oggi siamo qui, come ti raccontavo, con due microfoni della T-Bone, l'SC400 e l'SC600. Sono i due microfoni della serie SC, i primi due, quelli più economici. Questo costa intorno ai 50 euro, questo costa intorno ai 60 euro, quindi una differenza veramente minima. Vale la pena risparmiare 10 euro o conviene spendere 10 euro in più? In questo test tu vedrai che si alterneranno in sovraimpressione il scritto SC400 e SC600, in modo che capirai quale dei due microfoni sta andando in questo momento. Partiamo da un po' di precisazioni tecniche. Entrambe i microfoni stanno entrando con lo stesso cavo, quindi cavi uguali, dentro il Tascam Mixcast 4, al quale non è stato applicato nessun effetto, quindi pulito. Sto registrando su una SD, dopodiché importerò tutto in Final Cut Pro X, dove porterò il gain di entrambi i microfoni a meno 14 lufs, in modo che tu senta allo stesso gain. Ok, quindi non applicherò equalizzazione, compressione, denoiser, noise gate, the esser, qualsiasi cosa. Ok? Bene. Questi due microfoni esteticamente sono identici, tranne per il fatto che questo qui, l'SC600, ha sul suo corpo due switch. Uno è per un attenuatore a 80 Hz, se non ricordo male. L'altro è la scelta del pattern polare tra omnidirezionale e cardioide. Proprio relativamente al pattern polare, ho notato che sul sito e sulle istruzioni, sui foglietti che escono all'interno delle confezioni, c'è scritto supercardioide per entrambi. In realtà, il disegno che c'è sul microfono stesso è il disegno del pattern polare cardioide e dai test che ho fatto mi sembrano entrambi cardioidi. Anche perché di solito, quando c'è uno switch del genere tra due pattern polari, di solito uno è sempre cardioide e l'altro potrebbe essere figura 8 omnidirezionale, come in questo caso. Quindi io credo che sia stato un errore di descrizione sul sito, sui fogliettini. Ok? Però magari se tu hai idee contrarie, fammelo sapere. Secondo me sono cardioidi. Ok. Voglio raccontarti però, ti ho detto, i fattori che li rendono simili, quindi sono esteticamente identici, tranne per i due switch, ma suonano diversamente. Ok? Suonano diversamente e te ne stai accorgendo. E io non ti voglio dire quale è migliore, quale è peggiore. Sono due microfoni, secondo me, entrambi molto validi, benché, visto il loro prezzo contenutissimo, non possiamo aspettarci questa super definizione. Però nessuno dei due microfoni mi è sembrato avere un suono, come dire, fastidioso. Quindi non hanno bassi molto profondi, non hanno alti molto stridenti. Insomma, mi sembrano due microfoni gradevoli, soprattutto, ripeto, in rapporto al prezzo. Perché non dimentichiamoci mai, 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 che ogni microfono, ogni attrezzatura in generale, va contestualizzata in base al budget. Ok? Quindi, io, è inutile che lo ripeto sempre, ogni volta, però tu sappi che tutte le cose che ti sto dicendo sono relative al loro prezzo. Una differenza sostanziale tra due microfoni è la sensibilità degli stessi. Perché? Perché questo qui, l'SC400, ha una sensibilità di 23.3, misurato in millivolt diviso Pascal. Ok? Ora, al di là dei tecnicismi, ti basta sapere 23.3, mentre questo, l'SC600, ha una sensibilità sempre misurata in millivolt per Pascal, 13.9. 23.3, 13.9. Qual è la differenza? Il gain. Infatti, se andiamo sul Tascam Mixcast 4, vediamo che questo entra con un gain di 20, l'SC400, mentre l'SC600 entra con un gain di 24. Quindi c'è una differenza, almeno per quello che ho potuto vedere io, di 4 dB. Niente. Ok? Te lo volevo dire per dovere di cronaca, però niente, nel senso che qualsiasi scheda audio li riesce a pilotare, visto che sono microfoni a condensatore. Ok? Quindi non c'è nessun problema, soltanto volevo dirti che c'è una differenza in termini di sensibilità. Sulle istruzioni, sul manualetto, c'è anche scritto che questo qui, l'SC400, ha un equivalent noise level di 18, quindi un self noise di 18 dB, mentre questo qui di 8.7. Ok? Quindi parliamo di 18 contro 8.7. Anche in questo caso, ti dico la verità, 18 è veramente tanto? Io non sento, io non sento tutto questo rumore di fondo nel microfono. Mi sembra veramente strano che sia 18, perché 18 è un rumore di fondo importante. Secondo me al di sotto dei 10 è tollerabile, al di sopra è eccessivo. Ma ti dico la verità, non mi sembra, soprattutto poi la differenza tra i due, 8.7 e 18, mi sembra veramente un po' eccessivo, quindi anche in questo caso, secondo me, hanno sbagliato a scrivere nelle istruzioni. Mi sembra veramente strano. Ok? Altre differenze, un grammo di peso in meno, questo pesa 351 grammi, questo 350. Niente. Il ragno, in entrambi i casi, è lo stesso, pesa 200 grammi. Il ragno è imbottito all'interno, in modo che i microfoni non si graffiano. Ok? Quindi quando vai a inserire il microfono, c'è un minimo, minimo, minimo di imbottitura che fa sì che il microfono non si graffi. Quindi questa è una cosa molto interessante. Altre cose da raccontarti, più o meno, insomma, ti metto tutto in descrizione, quindi non c'è nessun problema. Però volevo segnalarti le differenze tra i due microfoni. Ora, se stai guardando questo video con le cuffie e se non lo stai facendo, fallo per favore, perché è fondamentale, soprattutto quando faccio il test tra due microfoni, se non hai delle cuffie, le migliori che hai ovviamente, ti perdi le sfumature tra i microfoni. Ok? Entrambi i microfoni sono robusti, sono pesanti al tatto, sono due microfoni piccoli nella forma, ma stai sentendo il suono, secondo me, assolutamente dignitosi. Ok? Sono due microfoni che ti consiglio. Allora, sì, se stai entrando adesso nel mondo dei microfoni a condensatore, quindi se non hai mai usato un microfono a condensatore, se vuoi provare un microfono a condensatore senza spendere troppi soldi per capire se vale la pena avere un microfono a condensatore, se è nella tua stanza che non è trattata acusticamente, tutto sommato un microfono a condensatore si può usare. Insomma, se vuoi fare dei test, delle prove, questi microfoni sono perfetti, perché costano poco e come stai sentendo, suonano decentemente. Se però la tua stanza non è acusticamente trattata e vuoi comprare un microfono a condensatore perché vuoi che sia il tuo microfono quello con cui registrare, ti sconsiglio non solo questi due, ma ti sconsiglio in assoluto di rivolgerti ai microfoni a condensatore. Ok? Quindi questa precisazione è fondamentale. Se li vuoi comprare come test, li vuoi usare, li vuoi comprare, magari hai già una stanza insonorizzata trattata acusticamente, vuoi un microfono senza spendere troppi soldi, un microfono a condensatore, senza investire un capitale, questi due possono essere tranquillamente la scelta migliore. Se sei arrivato fino a questo punto del video, ti dico che prossimamente vedrai anche un test di questi microfoni con i fratelli maggiori, ovvero l'SC450 che è meraviglioso e l'SC1100 che è al momento uno dei miei microfoni preferiti. Bene, io credo di averti raccontato tutto su questi microfoni, credo di averti fatto sentire soprattutto la mia voce su questi due microfoni, voce pulita, come ti dicevo nell'introduzione del video, quindi spero che ti sia fatto un'idea di questi due microfoni e ovviamente qualsiasi dubbio, domanda, curiosità, non esitare a commentare questo video in modo che io possa risponderti nel più breve tempo possibile. Ok? Bene, io ti ringrazio e noi ci vediamo settimana prossima. Ciao! Ciao!